Ciao ragazzi sono il piccolo ruby e oggi voglio farvi un book tag sulle segni zodiacali il book tag penso che sia stato ideato da Sofia di Libri da Favola che saluto caramente credo che sia stato ideato da lei, vabbè comunque bando alle cioancio e partiamo subito con le domande che vi lascerò rigorosamente sotto Allora Ariete, un romanzo venturoso con protagonisti coraggiosi io ho scelto Terry Goodking, la spada della verità Allora questa è una saga che è lunga, 11 capitoli se ne vedono di tutti i colori e il protagonista Richard Rall è un Richard Cypher in Rall è un protagonista veramente coraggioso un protagonista che non si ferma davanti a niente è un protagonista che ha un'evoluzione durante tutto il percorso cosa che a me piace tantissimo infatti nei fantasy non mi piacciono quei personaggi che si cristallizzano in un determinato comportamento e lo portano per tutto il romanzo quindi mi piacciono dei personaggi che si evolvono e poi ve ne parlerò in seguito andiamo avanti questo dove lo metto? andiamo avanti Toro, un personaggio con un protagonista maschile affascinante io ho scelto Cime Tempestose, Heathcliff questo uomo misterioso, questo uomo pieno di ombre questo uomo che ha paura di amare questo uomo che confonde molte volte l'amore con l'odio che le due cose si fondono è un personaggio che lo si ama però lo si odia anche quindi è un personaggio proprio veramente misterioso è un romanzo che io ho amato questo l'ho letto tre volte e il personaggio di Cliff è veramente affascinante andiamo avanti Gemelli, un romanzo che ti ha incuriosito però so a particolarità io ho scelto il mago di Oz di Bra un Frank Brown, spero che si lega così mi ha incuriosito soprattutto la storia di Dorothy che viene catapultata in questo mondo l'incontro con questi tre che vogliono con il leone, l'uomo di latta l'altro non mi ricordo e lo spanetapasseri e questa storia mi ha veramente incuriosito ecco perché volevo proprio sapere come andava a finire e vi devo dire che è un libro che ho letto recentemente andiamo avanti Kanko, un romanzo con una protagonista talmente testarda da risultare antipatica qui non ho avuto dubbi Cornelia Funke, cuore d'inchiostro la protagonista si chiama Maggie ha tipo 7 anni meno di 10 anni 7-8 anni dovrebbe avere ed è veramente antipatica si mette a fare i capricci è testarda appunto ai piedi e si comporta veramente come una bambina dell'asilo che io alcune volte volevo proprio entrare fisicamente nel libro e strangolarla perché è veramente antipatica spero che nel corso degli altri due libri che sono veleno d'inchiostro almeno migliore perché proprio all'inizio non ci siamo ed è un peccato perché non fa entrare in empatia con il personaggio e quindi molto spesso la narrazione poi diventa difficoltosa quando, almeno per me quando non riesce ad avere un punto di contatto con il protagonista Leone un libro che a tutti piace ma che a te non è assolutamente piaciuto io non ho qui da mostrarvelo ma è colpa delle stelle colpa delle stelle il libro chiacchieratissimo a cui diciamo che alla maggior parte è piaciuto ma a me assolutamente non è piaciuto però non ho qui da mostrarvelo perché l'ho l'ho sbolognato Vergine la tua protagonista preferita e qui non avevo assolutamente dubbi Martin il dominio della regina questo è il libro dove si parla di Cersei Lannister che è lei appunto la mia protagonista preferita voi adesso mi starete dando del pazzo adesso interromperete la visione di questo video adesso vi indignerete ma a me non interessa e vi spiego anche i motivi che mi hanno portato a fare questa scelta allora Cersei Lannister è una che si odia all'inizio sia guardando la serie televisiva che leggendo i libri per tanti motivi però quando si comincia a leggere soprattutto questo volume io ovviamente vi parlo della versione spezzata quando si comincia a leggere questo volume si capiscono tante cose di lei si capisce il suo passato si capisce il perché è diventata così si capisce il perché abbia fatto determinate scelte ed è un personaggio veramente forte è un personaggio che si impone un personaggio che essendo donna vuole vuole dimostrare a tutti di essere al pari o simile all'uomo è un personaggio che vuole che vuole la parità è un personaggio che vuole emanciparsi da un mondo dove comunque la donna deve stare in un angolo e starsene zitta oppure dove la donna è solo relegata al ruolo di moglie e madre lei questo coso questo questo coso questo questo ruolo non gli è mai piaciuto gli è piaciuto il ruolo da madre lei è anche un'ottima madre rispetto a quell'altra la Stark lasciamo perdere è un'ottima madre ama i suoi figli e per i figli gli fa anche delle scelte sbagliate ma non piace non gli piace essere la moglie devota e l'amante lei fa fa di tutto per per imporsi come donna come regnante come governante anche se poi alla fine fa delle scelte sbagliate perché perché lei dice io sono in grado di essere come un uomo anche se non ho gli attributi di un uomo io so essere governare e al pari di un uomo infatti spero che questo non sia spoiler infatti si vede che lei fa grande uso di alcol di vino proprio perché sta ad affermare proprio la sua il suo essere il suo essere uomo cioè lei dice come un uomo può reggere tanto alcol lo posso reggere anch'io io sono veramente stufo di incontrare donnicciole proprio donne che veramente avrebbe voglia di strangolarle donne ingenue donne che sono che vivono sul pero donne veramente che aspettano con lì come le madonne il principe azzurro no questa è veramente è veramente un personaggio è il mio personaggio preferito Cersei Lannister poi chi mi conosce sa che io la amo tanto andiamo avanti un libro con una cover bellissima allora io ho scelto un libro che non ho ancora letto ma si chiama Half Bed di Sally Green mi è piaciuta perché ha una particolarità davanti è nera con questa faccia che non si sa chi è e dietro è bianca ecco è double face con in mezzo con in mezzo la scritta fatta con le due con le due con le due facce quindi ricorda molto il dualismo le due facce del bene e del male è veramente è una delle cover che mi piace però ovviamente anche quella di cuore d'inchiostro sono veramente molto belle ecco queste qui anche queste qui sono veramente splendide come copertine anche se il contenuto così allora un libro bilancia prima quella era no la prima era bilancia scorpione un libro che leggendo ti ha fatto sentire più forte hunger games eccolo qui perché perché se lei ha potuto farcela in questa arena dove si doveva scannare alla fine perché non ce la posso fare anche io ad affrontare i problemi di tutti i giorni quasi vedrete una montagna che sale inesorabilmente allora sagittario un romanzo che parla di una storia vera e qui ho scelto a parte che scegliere comunque cioè non ho qui da presentarvi ma il diario di Anna Franca che vi consiglio di leggere però non ho qui da mostrarvi io ho scelto invece il giocatore del Dostovlievsky questa è la storia appunto dell'esperienza che il il nostro caro Fedov ha fatto e quindi la descrive proprio in questo romanzo lui era appunto un giocatore accanito un giocatore di che faceva giochi tipo la roulette le carte poker ecco era un giocatore molto accanito e ha voluto descrivere la sua esperienza proprio in questo romanzo infatti qua dietro dice accanito è un fortunissimo giocatore per molti anni Dostovlievsky scrisse il giocatore in solo 8 in solo 28 giorni ecco quindi questo è questa non descrive una storia vera ma descrive un qualcosa di vero attraverso il romanzo e qua saliamo allora capricorno vai subito a sua dedescriverti con un libro va dove ti porta il cuore io seguo sempre il cuore e seguo sempre distinto di Susanna Tamaro anche se un libro che non ho ancora letto ma mi è stato detto che è veramente molto bello qua saliamo inesorbilmente acquario consiglio un libro ambientato nel futuro allora qui ero indeciso perché perché volevo consigliare The Giver però sinceramente quindi io vi consiglio di leggere solo il primo volume ovvero Divergent leggete solo ed esclusivamente il primo volume perché è veramente bello e ne vale la pena leggerlo perché è una storia veramente bella è una storia veramente innovativa è una storia veramente particolare leggete solo il primo volume perché gli altri fanno letteralmente schifo comunque io ve lo consiglio anche come come lettura leggera andiamo avanti pesci un libro che ti ha fatto sognare ad occhi aperti ovviamente come non parlare di Harry Potter Harry Potter mi ha fatto sognare per il suo modo di vedere la vita la scuola i professori il gioco degli scacchi dove semenano le caramelle dove sanno di tutti i gusti i quadri che si muovono e se ne vanno a fare i fatti propri gli incantesimi le pozioni le magie ecco il tutto è veramente un libro che mi ha fatto sognare bene io e la mia pila di libri abbiamo finito questo video tag spero che vi sia piaciuto se non vi siete ancora iscritti al mio canale fatelo io sotto vi lascerò tutti il il link dove trovarmi dove insultarmi dove volete fare quello che vi pare se volete mettere mi piace alla mia pagina facebook e continuare a vedere le mie becerate a me farebbe molto piacere io vi do appuntamento la prossima volta con un nuovo romanzo con un nuovo video sempre qui sul canale del piccolo ruby ciao